Dobbiamo cercare come sempre una strada, dobbiamo essere veloci, individuare qual è l'accesso per il nostro labirinto. Siete pronti per tutto ciò? Allora 3, 2, 1, mappa! Allora, il libro è il tesoro e... B! B, 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 ok. Questa è la risposta, quella è la strada. Abbiamo anche tagli di argilità che c'è da tutto qui. Allora veniamo con questo mandello. Il più bravo nel labirinto è stato... Focca Labindella! Il controposto per la vista viola è il vincopaglio. Monotono sta cosa, no? Adesso facciamo la domanda che Focca Labindella non sa. C'è qualcosa che non sa Focca Labindella? Alla ricerca delle lettere perdute non è questo il caso. Allora, le regole le sapete. Faremo una domanda molto semplice. Sarà scritta soltanto parzialmente. Mancheranno delle lettere, ma dovete individuare. C'è il V? Non lo so. Sì, c'è anche l'esempio. Come al solito. Però vabbè, vi metteranno il dottor Wagner non hanno bisogno. Vede, allora, la domanda semplice. Facciamo questo sabato. Vabbè!